Ciao Readers, come state oggi? Spero davvero bene. Allora, ieri ho fatto un sondaggio sul mio canale Instagram per capire qual era la prossima video recensione che preferivate, ovvero una silloge poetica che non vedo l'ora di presentarvi e un romanzo. Oh, un romanzo. Al 100% ho vinto il romanzo. È ancora un po' complicato parlare di poesia di social, devo dire. E allora mi è venuto in mente che mi è appena arrivato un pacchetto, eccolo qua, di un romanzo che ho già letto e recensito, di un'atrice che adoro, ma che voglio scartare con voi perché io volevo assolutamente il cartaceo, visto che l'ho letto in ebook. E che è il terzo libro di una saga fantastica, fantasy, chiamata Diamond, dell'autrice Monica B. Prima di scartarlo vi voglio far vedere i primi due, così vi rinfresco un po' le idee. Allora, il primo libro che ho letto, che mi lascio senza parole, è Il mio demone. Io ho conosciuto Monica B grazie all'intervista che abbiamo fatto, recensito il suo libro, anche La mia tempesta che vi farò vedere, e devo dire che è un librone che si fa leggere da solo. Cioè, sui inizi e diventi uno dei personaggi. E qui i protagonisti, come ho detto l'altra volta, sono Andras, un demone che non deve chiedere mai, e una, come posso spiegare, una strega, che poi si capirà una strega, tanto abbiamo già recensito il libro, che a me, per me, assomiglia molto a Monica, anche se lei dice di no, che si chiama Hope, e che avranno una storia molto, un pochino intensa, un pochino intrigante, una storia d'amore, ma non vi voglio più dire nulla perché lo dovete aver letto, però ho parlato tantissime volte, Il mio demone. Il secondo libro, Il continuo del mio demone, in realtà è La mia tempesta. E questo mi ha colpito al cuore affondata. Lui è Dantalion, è il protagonista, il dupe degli inferi, Dante per gli amici, che si innamorerà di un Empathos, di un mezzo angelo chiamato Liberty, che è un personaggio che sfonda veramente, è fantastico, e per cui ho vinto anche un contest fotografico, proprio con La mia tempesta, con questi protagonisti, e la foto è questa. Mi piace? Non mi piace tantissimo. Qua sto facendo il video abbraccio perché Monica B, che è un nome di si merita tutto di seguito, senza intervalli e cercare qualcosa di più perfetto, perché io le parlo dal cuore, lei lo sa. Ciao Monica. Aspettavo con tanta ansia l'ultimo libro, e quindi lo voglio scartare con voi. Io odio il video unboxing perché sono veramente negata a scartare i pacchi, ma siccome l'autrice merita i libri e ancora di più la storia, e non è l'ultimo, non pensate che è una geologia perché continuerà, vi faccio vedere che bella unboxing. Unboxing, guardate che meraviglia. Monica ha sempre queste carinerie di mandarti questi pacchi, come se fossero gioielli, come se fossero regali. È una cosa adorabile. Innanzitutto guardate il logo adesso, che meraviglia. Tra il viola che è uno dei miei colori preferiti. e ora apriamolo con un nastro nero, cioè veramente è pensato per me questo libro e questo incartamento. Vediamo un po' quanto è meraviglioso questo libro. Lo avete già conosciuto, letto? Spero proprio di tutto. Ed ecco a voi la mia finisce. L'incartamento prende perfettamente il libro, i colori del libro, la fantasia, e è bellissimo anche questo. Di che cosa parla? Riprende esattamente la mia tempesta. Non c'è più Monica dietro. Perché? Perché Monica, ve lo dico io, è Hope. E quindi va soltanto nel primo libro. Allora, la mia finisce parla di questa ragazza, Schia, che io in realtà ho capito che si chiamava Schia, e non Schia, soltanto il book trailer. Quindi scusami Monica, scusami tantissimo, ma per me rimarrà Schia, che è la figlia del demone, il nemico, il più cattivo per Antonomasia Belial. Una figlia purtroppo che ha avuto una vita difficile, logicamente essendo fine di Belial, che viene salvata da un altro demone di quelli veramente top, Amon. Bello che non deve chiedere mai anche lui, ma ha un carattere ancora più schivo e chiuso di Andras, pensate un po'. E anche qui nasce la nostra caratteristica molto complicata. Come scritto nella recensione, il bene diventa male, il male diventa bene. Per beni è ancora superiore, per soluzioni è ancora superiore, quindi molto intrigato. E questo, a differenza degli altri, è ancora molto più aggressive. Gli altri non sono aggressive in realtà, sono molto lineari. C'è tanta tensione, tanta ansia, ti identifichi subito, in questo gruppo di demoni, angeli, mezzo-angeli, imparose, eccetera, streghe, io una strega in assoluto. questo però è molto aggressivo e ci sarà un colpo di scena che non mi aspettavo, perché Monica mi ha veramente sorpreso, che però disequilibra un po' tutto, tutto il gruppo. È un libro molto intenso, anche questo molto bello, molto approfondito. Lei ti prende, l'attrice ti prende sempre per mano, ti fa fare questo viaggio incredibile, in questo mondo fantasy, dove ti senti veramente parte del gruppo. Io mi sentivo, mi vedevo proprio seduta all'ufficio di Dantaglio di Dante, che è un locale, un locale notturno, dove c'è un ufficio dove si rinuniscono tutti loro. Io mi sentivo lì, mi vedevo lì, a di loro, insieme a loro, facevo parte del gruppo. Eschia anche è un personaggio che farà parlare, che lo ritroveremo naturalmente, che farà parlare tanto per le sue caratteristiche e uscirà da parte di Amon che ancora non avevamo capito, perché lei è bravissima, la dice è bravissima a introdurre dei protagonisti, in una fase molto modesta nel primo libro, nel libro precedente, e poi buttarteli proprio a capofitto, a tirarteli proprio nel secondo, il terzo, quello che sia. Quindi devo dire che, oltre ad analizzare benissimo i personaggi, Monica ci fa entrare nel gruppo e poi ha una scrittura, ragazzi, imponente, vedete questa ricetta piccolina, poi vi arriva, aprite il libro, cominciate a leggere, dicendo non è possibile che abbia scritto lei questo, è veramente strong, è veramente intenso e potente quello che scrive, quindi io vi consiglio fortemente di leggere tutta la saga, naturalmente, ma se siete arrivati all'ultimo, dovete leggere assolutamente la mia Fenice, la mia Tempesta è meravigliosa, proprio è il mio, è il mio, mi tocca il cuore, il mio demone all'inizio, e quindi sei curioso, ti appassioni subito, la mia Fenice è quasi un libro di rottura, un libro diverso che ci prepara qualcosa di ancora più diverso, io spero di vedere anche il quarto subito, in uscita, spero che Morita ci faccia questo regalo, magari dopo l'estate, o magari anche prima se ce la facciamo, intanto vi dico, questa è la serie Diamond di Monica B, una trilogia fantasy che si allargerà da altri libri, e se le domande chiedete anche nei commenti, intanto Monica è carinissima a rispondere sempre, e cominciate a leggere questi libri, se non l'avete fatto partite dal primo, sono sicura che vi appassionerà, se vi va, leggete le recensioni sulla bottega dei libri che ho fatto, o vedete l'intervista sulla pagina G della bottega dei libri, perché Monica è stata molto carina a riempire di tutte le nostre curiosità, quindi se vi va, seguite questa autrice, seguite questa serie, e seguite il canale, naturalmente, mettete un like o due, condividetelo con i vostri amici, e parlate di Alessandra Musella Libra che è narrante, e parlate di libri, che va sempre bene. Io spero di avervi un pochino incuriosito, ti saluto Monica, grazie di tutte queste bellezze, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, che sarà prestissimo, ciao! Ciao!